La considerazione più forte è l'orgoglio di questa amministrazione che ha avuto il coraggio tra tante resistenze di mettere fuori Romeo dal patrimonio immobiliare della nostra città. Aveva il monopolio assoluto, il suo potere era equivalente a quello di un vice sindaco, aveva una capacità tentacolare e noi abbiamo deciso di toglierlo a un imprenditore a cui era stato affidato con un appalto assolutamente discutibile e di favore a mio avviso e invece l'abbiamo internalizzato e questa è una grande operazione di legalità, di trasparenza e di buona amministrazione e alla luce di quello che sta avvenendo fuori noi siamo fuori dai tentacoli di Romeo.